Controlli serrati sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti a Gallipoli non solo per il rispetto dell'ambiente ma per ridurre la percentuale di rifiuto non conforme che significa per i cittadini poter risparmiare sulla Tari. Raccolta differenziata più severa lo si fa anche per il bene dell'ambiente e dei cittadini. Riprendiamo il programma di corretta raccolta differenziata nuovamente qui nel comune di Gallipoli. E' importante differenziare per riuscire innanzitutto a risparmiare ma anche per aiutare il nostro ambiente. I vantaggi sono inequivocabili non solo per il cittadino perché si arriverà ad un'ulteriore riduzione della Tari ma anche di conseguenza una riduzione dei costi che il comune affronta nello smaltimento dei rifiuti. Vengono lasciati praticamente vicino casa i rifiuti che non sono stati correttamente differenziati invitando la cittadinanza a ridifferenziare. Il comune avvia una campagna di informazione rivolta ai cittadini e alle attività commerciali e nei prossimi giorni saranno interessate le scuole, i condominio e gli operatori turistici. L'azienda mette a disposizione oltre al suo numero verde e oltre alla disponibilità dell'ecocentro e degli operatori in ecocentro per rispondere ai dubbi che hanno eventualmente i cittadini. C'è anche un'app. Andremo in modo più capillare nell'informazione all'interno delle scuole, all'interno dei condomini. Avremo proprio domani una call con tutti gli amministratori, stiamo parlando di quasi una settantina di condomini, proprio per ritornare sull'argomento e spaziare, cioè incrementare la diffusione della differenziata.